Ben trovati da Nikos di Trevi Meteo, nuova settimana che vedrà un nuovo cambiamento del tempo sulle nostre regioni. Alta pressione defilata più ad ovest e lascerà spazio a degli impulsi di aria più fredda a nord atlantica verso il cuore del vecchio continente ma un veloce fronte instabile raggiungerà l'area alpina al nord est e il centro sud proprio tra lunedì e martedì apporterà qualche rapido fenomeno. Tra l'altro venti nuovamente in rinforzo sul bacino del Mediterraneo, venti tesi dai quadranti nord occidentali con mari mossi, molto mosso, agitato il tirreno. Vi segnalo qualche fiocco di neve sulle alpi settentrionali a quote di media montagna. Perturbazione poi seguita ad aria un po' più fredda appunto oceanica. Seguite gli aggiornamenti sul nostro sito web.